Minecraft Survival Games e la cosa assurda è stata che uno dei player che ho ucciso cercava di scappare da me, aveva una barca, mette la barca in acqua però invece che metterla bene nell'acqua gli va per metà sulla terra, poi lui sale nella barca però non sapete non ci si può muovere quando si è per metà sulla terra e quindi è rimasto lì bloccato nella barca come uno scemo scusate ma ci sta davvero, era assurdo, era lì fermo in una barchetta sulla terra senza muoversi. La situazione più assurda che abbiamo mai visto, mi sono quasi sentito un colpo ma gli ho dato due o tre spadate ed è morto. Comunque in questa partita la cosa positiva è che ho trovato subito una buona riserva di cibo e soprattutto anche un arco. Come dico spesso in questi server è abbastanza importante arrivare alla fine della partita con arco e frecce perché per scelta o forse per caso capita raramente di arrivare alla fine con arco e frecce e soprattutto con un buon numero di frecce. A volte magari ne abbiamo due o tre, un qualcosa del genere però non è così comune arrivare al deathmatch con tante frecce quindi io quando vedo che la partita si sta indirizzando sul fatto di poter impostare un gioco basato sulle frecce cerco sempre di farlo perché è ovvio che se voi avete tante frecce l'altro può anche avere una spad, un'armatura migliore della vostra ma finché voi avete skill nel colpirlo potrete vincere. Tra l'altro qua vedete che ho fortunatamente anche gli oggetti per craftare le frecce che non è così facile anche questo perché se ci pensate nei match survival games sono pochi gli oggetti che per essere craftati hanno bisogno di tre ingredienti differenti. Poi sempre esplorando andando in giro in tutta questa zona della mappa trovo altre due frecce e la bussola che anche quella è importante. Tra l'altro questa è stata una partita molto aggressiva perché il numero dei player vivi è sceso molto rapidamente quindi vuol dire che tutti giocavano in modo molto aggressivo che mi piace sempre. Tra l'altro la bussola mi è utile perché di notte mostra dove il supply drop e di giorno ci indica quanto è distante il player più vicino e questo ovviamente è positivo così non ci facciamo fregare da quelli che magari non so arrivano mentre noi stiamo aprendo una cesta e ci uccidono. Cosa che a me capita spesso quindi ho imparato a essere prudente e controllare sulla bussola. Quel beacon block mi aveva fregato io pensavo che lì scendesse il supply drop invece no era solo un beacon block decorativo. Qua super fortuna un'altra punta di freccia qua iniziate a capire qual è stato sicuramente il mio ragionamento mentre giocavo guardate quante frecce io riesco a produrre in questa partita. Allora torno a cercare la chest però qua esce la scritta che si può far partire il deathmatch allora io scrivo slash dm voglio essere io far partire il deathmatch perché sono confidente sul fatto di potercela fare con le mie frecce a vincere il deathmatch. C'è solo un'altra persona quindi è un uno contro uno onesto non è possibile che ci siamo team o uno contro due situazioni del genere e io sono abbastanza confidente nella mia skill con l'arco e quindi decido sì so che avrò un buon numero di frecce. Ho una spada abbastanza debole perché vedete è una spada d'oro l'armatura è media media buona diciamo chain mail quasi completa tranne gli stivali che ce li ho di pelle qua vedo che arriva il frost il super freddo e quindi mi allontano perché è stupido prendere danno dal frost prima del deathmatch e inizio a camminare. Qua sto un attimo pensando a come imposterò il mio gioco e ovviamente devo basarlo sull'arco metto le frecce nell'inventario veloce perché almeno ho subito sott'occhio quante me ne rimangono e non faccio errori di questo genere. Qua inizia il deathmatch non vedo dove è l'altro perché a volte è invisibile durante la fase iniziale del deathmatch non so se un bug è fatto apposta. Qua cerco di capire dove è l'altro e non fare errori e finalmente eccolo che arriva carico subito l'arco ma lui così capisce che io ce l'ho ma attacca lo stesso sbaglio le prime due frecce e qua dico cavolo cosa sto facendo devo riacquistare la calma mandarlo alla giusta distanza lo colpisco con la canna da pesca non lo sparisce non so perché mi colpisce forse è un bug. E qua lo colpisco bene ancora lo colpisco bene lo colpisco bene guardate lo mando nella ragnatela con le frecce qua raffica di frecce lui non può muoversi lo uccido qua è stata davvero una mossa che mi è piaciuta un sacco gli ho sparato la freccia girandomi è andato proprio sulla ragnatela e così sono riuscito a vincere una partita che mi ha dato davvero soddisfazione perché è bello non tanto la vittoria in sé quello ok è divertente ma il punto è che all'inizio della partita ho deciso di seguire una certa strategia di basarmi su arco e frecce la partita si è sviluppata secondo quella strategia ho trovato più frecce o ne ho craftate altre ancora e alla fine nel deathmatch è andato proprio come volevo io e sono riuscito a utilizzare bene le frecce quindi mi sono proprio divertito e mi ha dato soddisfazione. è tutto per oggi spero che la partita sia piaciuta anche a voi e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti